L'assessore Franco Cammina all'Ambiente del Comune di Pozzuolo è aderito alla giornata di Lega Ambiente provvedendo con dei dipendenti comunali a contribuire alla pulizia della spiaggia. Certo, questo è il secondo anno che facciamo insieme con le scuole di Pozzuoli, le scuole elementari e in più con Lega Ambiente Associazioni Pozzuoli-Tua facciamo questa pulizia delle spiagge denominate le Monachelle e oltre a fare questo è il secondo anno che facciamo anche la pulizia delle scogliere perché c'è stata una grossa esigenza, innanzitutto l'anno scorso era molto più abbandonato di quest'anno quest'anno è un po' migliorato ma comunque c'è ancora molto da fare. Queste esperienze si dovrebbero ripetere nel corso dell'estate con una cadenza più assiduale Io ritengo innanzitutto l'importanza di questi giovani che si rendono conto che il mare è nostro e va tutelato le spiagge sono nostre e vanno tutelate e vedo con grande entusiasmo loro che fanno questa pulizia stamattina già come potete vedere hanno riempito decine e decine di contenitori di rifiuti già differenziati Noi riteniamo che è un'esperienza che va fatta nelle scuole perché saranno i futuri giovani che faranno la differenziata sul territorio Grazie! 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 Grazie!